Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su P-Quad. Io sono Michele, oggi parliamo di questo fumetto, ovvero Foglie Rosse, targato Leviathan Labs, scritto da Massimo Rossi. Ve lo faccio vedere tra poco nel dettaglio, ne parliamo, giusto una mia riflessione. Però intanto ringrazio appunto Leviathan Labs, che dire, è un'opera molto, 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 non ve lo dico. Sigla e poi ne parliamo. Leviathan Labs presenta Foglie Rosse, un fumetto scritto da Massimo Rossi, disegnato da Ivan Fiorelli, con i mezzitoni e i colori di Lorenzo Palombo. L'editing di Lucrezia Benvenuti, il design e il lettering di Leonardo Mugnai e Tobias Meyer. Copertina molto, molto bella e suggestiva. Un fumetto che mi incuriosiva da tantissimo tempo, finalmente l'ho letto e ora ve ne parlo. Intanto ringrazio Leviathan Labs per avermelo mandato, molto gradito, sia questo sia un altro, di cui vi lascio una sorpresa, poi ne parlerò ovviamente nei prossimi giorni a venire. Foglie Rosse, innanzitutto si divide in quattro capitoli, il primo si apre in Siberia e capiamo già la bellezza dei colori e della tonalità di questa cromia che danno al fumetto un tocco molto, molto carino e originale. disegni belli, non tra i miei preferiti diciamo come stile però non male perché mi piace molto il tono dei volti e il modo in cui poi la regia del fumetto si struttura attraverso le varie vignette che hanno un dinamismo accattivante rispetto invece alla visione e narrazione un po' più pacata, un po' più soft da questo punto di vista, almeno dal mio punto personale è quello che emerge. Alcune tavole come questa hanno una visione a tinta unita con delle sfumature tendente al rossastro e l'ambientazione è praticamente quella di una cascina immersa o una baita come preferite in mezzo al bosco con questa donna che vive nell'attesa e nella speranza che il marito ritorni dalla guerra accompagnata dalla figlia piccolina. Alternando alla storia di queste due donne, donna grande e donna piccola diciamo, ci sono dei flashback. I flashback sono tutti incentrati sul passato e sul presente del marito che appunto vive questa situazione in conflitto in Finlandia. La storia si comunque procede in maniera molto molto lineare e pulita appunto intervallandosi con questi flashback ma come questa tavola molto bella ci porta poi a delle pagine intere quasi da libro illustrato che sono secondo me anche curiose dell'impaginazione di questo volume. Questa merita non vi racconto molto sulla storia proprio perché come ben sapete chi mi segue è bello lasciare anche la narrazione oltre che lo stupore di leggere tutte le parti della storia al lettore. È un po' come andare al cinema e vedere il trailer. Vi svela un po' di situazioni che sono incresciose secondo me. Io non guardo mai i trailer quando vado al cinema né tantomeno mi piace parlare propriamente della storia di un fumetto. Ne parlo in maniera molto ampia, vi faccio vedere i disegni sì, però la storia è bella anche godersela, lasciarsi trasportare dalle emozioni o da ciò che preferite. Personaggio principale, e questo magari ve lo posso anche dire, del fumetto è, a parte le due donne e il marito di questa signora che vediamo solo attraverso i flashback, è questo vampiro che nella versione di Massimo Rosi si chiama Vurdalak. Non vi dico nulla sul Vurdalak perché vi lascio la curiosità di vedere gli approfondimenti anche a fine fumetto dove Massimo Rosi ci parla abbastanza ampiamente di questo, di questa figura sia a livello storico sia a livello antropologico, che secondo me è una cosa bella da fare alla fine delle opere, almeno in questo caso dove il genere del fumetto è horror, è abbastanza chiaro. Che dire ragazzi, io e ragazze ve lo consiglio, è un'opera, è una lettura piacevole, non impegnativa, anzi scorre via veramente in maniera molto fugace, anzi forse pure troppo, perché forse avrei preferito soffermarmi di più su alcune situazioni, però che dire, leggetelo e magari se l'avete anche letto fatemi sapere cosa ne pensate, secondo me è un'opera lodevole. L'albo di Levitan Labs, più che albo, questo è appunto una graphic novel di questa casa editrice giovane, con tanta, secondo me, strada da fare in divenire, e vi faccio vedere un po' come, a parte la storia che vi ho fatto appena vedere, vi faccio vedere come è un po' costituito l'albo. La parte finale fondamentalmente prevede degli appunti visivi, degli studi, dei disegni dei personaggi, quindi abbiamo Tatiana, abbiamo Vassili, Iari e il Burdalac. E poi, una cosa che io ho apprezzato moltissimo, sono i contributi che Massimo Rosi, ovvero l'autore di questo fumetto da un punto di vista di scrittura, decide di inserire come apparato d'approfondimento alla fine dell'opera. Quindi c'è la storia, da diversi punti di vista, anche etimologicamente, sia storiograficamente che antropologicamente, di questa figura del vampiro, del Burdalac, del Black Sabbath, e lo approfondisce da diversi punti di vista. Questa, ovviamente, è la versione del Nosferatu, e merita moltissimo. Questa parte qui merita anche molto, rispetto, ovviamente, anche a fumetto, che vi consiglio di leggere, perché è molto, molto bello. Questo è Foglie Rosse, un prodotto targato da Leviton Labs.